Riassuntino puntate precedenti signori, allora, cosa è successo? Abbiamo scoperto che Meru era un'alata, Meru è un'alata, gli alati hanno un bastone blocca draghi oltre all'ammazzadraghi, ricordiamo spada che aveva preso Lloyd, e si è risvegliato il drago divino, perché siamo arrivati noi a Deningrad e il drago divino era il drago più potente di tutti, che era rimasto sigillato grazie agli alati, si è svegliato probabilmente per la nostra presenza, cosa che dovrebbe essere forse l'obiettivo di Lloyd, Lloyd voleva noi a Deningrad per svegliare il drago divino. Shana si è rivelata molto collegata al discorso del culto della luna, possibile figlia della luna, e infatti il drago bianco ha smesso di riconoscere Shana ed è passato a Miranda, che è entrata nella nostra squadra, Miranda, una delle sacre sorelle di mille seso. Dobbiamo andare alla terra promessa a prendere il bastone blocca draghi, perché si è svegliato il drago divino, e se non fermiamo il drago divino, so cazzi, e quindi, vediamo. Ah no, dobbiamo parlare col Becio. Siamo prontissimi, Blano. Peraltro io ricordo una cosa, non sono blind sulla terra promessa, io ricordo, non è uno spoiler, non ve lo dico, c'è una cosa da fare alla terra promessa, molto importante. Questo è il potere degli alati? Pare. Sono le rovine della loro potere. Traduzione... Ok, combinato. Beh cazzo, è sulla luna la terra promessa? No, ah ok. Minchia mi metteva a piangere se si andava sulla luna. Non rassicurante questo posto. Così questa è la terra proibita. E dove si sono picchiati la prima guerra? Le rovine della gloria che fu. Il filmato che si è visto della prima guerra dei draghi? È questa cosa qua, questo palazzo qui. Non rimane più nulla dello splendore della capitale reale. Cosa c'è, Meru? Stai tremando. Sento le grida della gente che è stata uccisa qui. Riferisci a aspettarci nella foresta, Meru? No, sto bene. Se non so superare una cosa da nulla come questa, come posso pensare di affrontare il drago divino? È il tuo team quello, Vincent. Non sarà il mio. Che mostri ci sono alla terra promessa? Ci sono mostri alla terra promessa? Bello la musica. Sono sempre belle le musiche. È cambiata la musica dei fight. È questo il momento. Questa musica... È quella che... Che ti rimane. Bellissimo. Questa musica vuol dire... Molto se va sul serio. Stronzi. Shottato. Non sono forti. Eh, fanno tanti danni ma sono scarsi. Perché 75 danni? Dart, quanto fai cacare la merda. In quel cazzo di eroe folle, badonna, non vedo l'ora di portarla a 5, ve lo giuro. Cioè, fa 4 volte meno danni di hashel, Dart, in questo momento. Bene. Liss. Questa è la musica dei fight. Questa è la musica dei fight. Dal terzo CD in poi, si dirà le botte vere. Oh, Gesù, quanto sei labirinta. Allora. Qui c'è niente. Oh, è subito giallo? Quanti scontri ci sono? Livio! Benvenuti tutti quanti. Gli amici del Goblin. O di Pavarotti, se si vuole... Proprio guardare al dettaglio. Ciao, Ari. Benvenuti tutti quanti, io sono Delmo, principalmente gioco a Magic, ma stiamo facendo varieté. Stiamo giocando a Legend of Dragoon, siamo al terzo CD, madonna, anche bello sto gioco, non ce la faccio. Fischi di rospo, bene. Fa più danni Miranda di Dart. No, non ci credo, non è possibile. Non ci credo. Beh, Ashele è irraggiungibile, non è danno. Da Dart, mi fai vedere quanti danni... Sporogonia! Mi fai vedere quanti danni fai Dart? Scusi. Scusi. Mi fai vedere quanti danni fai con un eroe folle? Perché se fai meno di 100 ti tolgo. Cristo! Io voglio togliere Dart dal... Perché... Perché sono obbligato di trama? Perché i protagonisti non si possono levare? E soprattutto, perché il protagonista deve essere il più scarso? Non è giusto nei nostri confronti di giocatore. Non è assolutamente giusto nei nostri confronti di giocatore. Io non lo accetto. Io non lo accetto, non ci sto. Mi sa che dobbiamo andare un po' a vanvera, sperando che sia la strada giusta. Uh, tesoro. Arpe da ballo. Cazzo! Sono tanti i 20 punti a velocità, eh. Especialmente quando sei OP a merda come Miranda. Usciamo? Abbastanza lineare comunque, non ci si perde troppo. Fanno paura tutti sti trasporti, però mi sembra piuttosto lineare come il dungeon. Con le capo giro. Sto pensando di fare le magie con Miranda, ma se non ho messo, dai. Buttato via. L'abbiamo già visto il 1400 danni, ora... Non ci serve, dai. Diciamo non ci serve. Tanto vorrei una dotazione vera, buona per Dart. Tanto Ash è il shot a qualsiasi cosa. È Dart che fa schifo al cazzo. In questo momento. Dobbiamo solo finire quella cazzo di dotazione. Poi la levo, non la voglio vedere mai più. Cosa scappi? Perché scappi? Se ho appunto esperienza meno, ti odio. Che fastidio. Che promena, no? Benissimo. È il 5? No. Pongola al livello superiore non ce ne frega niente. Te lo giuro nulla. Nulla. Vedete le dotazioni come sono messo e che sto impazzendo. Allora. Dotazioni. Dart. Livello 3. Vabbè, è quasi al 4, dai. Ok, lui è quasi al 4. Ecco perché fa così tanti danni. Ashel. Cioè, questa dotazione fa il 262% dei danni. Stai scherzando? Fai punti... Fai punti drago di paperino, però... Dai Dart, dai. Resistiamo. Resistiamo, poi rimetto Danza Macabra. Resistiamo un altro po'. Devo riguardarmi prima dei boss di toglierla. Le folle. Ok. Zibrozegue. Uno spazio grandissimo. E' vero. Chissà che cosa serviva. Pongo il sentire... Sentire odore di sangue. Sangue. In uno spazio grandissimo. Potrebbe essere un colosseo. Sì, è così. Ho sentito dire dall'anziano. Una volta questo era un colosseo. Non era usato per i normali combattimenti in cui si poteva vincere o perdere. Era usato per i combattimenti mortali. Oddio. Gli alati assistevano dall'alto ai combattimenti. Tra guerrieri scelti tra la popolazione dominata, ovvero umani, draghi e alcuni giganti. Greve. Io sono la discendente di quella stirpe di alati. No, tu sei diversa, mero. L'anziano ci ha detto che erano solo delle rovine, vero? Quello che è successo qui appartiene al passato. Tutte le sofferenze che sono state provocate qui dentro sono state superate. O mi sbaglio? Non c'è nulla di cui preoccuparsi, mero. Dagli errori del passato dobbiamo solo trarre insegnamenti per il futuro. Con la vita. Ora procediamo. Niente, lineare. Continua a essere lineare. Dungeon è abbastanza sub binare. Però io ricordo una cosa e non ho ancora capito quando la devo fare. E ora breve la farò. Poi mi ricordo che è qui. Tutto di farming. Mi viene il coccolone. Cos'è questo... Cos'è questo regalo di gristo, scusate? Questo è un regalo di gristo. Ciao, Alex. Questo è un regalo di gristo. Ma grazie gristo, soa. O la luna, insomma. Chiunque sia il... Lo vogliamo sfruttare, eh? L'ho sbagliato. Mi sono fatto prendere l'emozione. Ci portiamo l'eroe folle al 5? No, troppo. Vabbè, i danni magici a Miranda mi prendi per il culo. Minchia, ragazza, c'è una cura. C'è una cura gratis. Devo veramente dire di no a un punto di farming. Bellissimo. Per il bene delle live. E per il bene dell'intrattenimento. Non posso mettermi a farmare palloso. Siamo già abbastanza forti. Direi che col drago al 5 di Miranda siamo già abbastanza forti. Non abbiamo bisogno di farmare, vero? Non farmeremo. Ci sarà l'endgame per farmare abbondantemente. Ci sarà l'endgame. Allora. Allora. È qui. È qui. Questa è una cosa completamente opzionale. Quindi per proseguire dovevamo andare a destra. Ma la farò. Non ricordo un cazzo. Ah, lo spiega. Ok. Bene. Non si può proseguire. Ho la sensazione che questo non sia un vicolo cieco. Penso io userò una tecnica della scuola rouge. Zeruto shirute. Kuruto ta. Niente. Mi è spaccato la mano per nulla. Questo non c'ha i muri di merda come la dimora dei giganti. È una fortezza degli alati. Dove funziona? Non so dove parti. Ma dubito che gli alati usassero i pugni per aprire le serrature. Forse hai ragione. Forse. Forse i disegni all'entrata e c'entrano qualcosa. Ma va. Proviamo in qualche altro modo. Allora. Sono sei. Giusto? Allora. Allora. C'è una progressione di immagini. Cioè tipo questo è piccolo. E sembra umanoide. Questo è più grande. Questo è ancora più grande con le ali. Questo è gigantesco. Se è con quattro ali. E questo è grosso. Ah. I lati c'è le braccia. C'è le braccia i lati. Ok. Quindi è. Tipo bambino. Umano. Volendo alato. Rappresenta le... Alato. Drago. Questo è un drago. Questo è un virago. Allora. Forse questo è un dragone. Questo è un drago. Questo è un avirago. E questo è sperma. Non lo so. Forse questo è un drago. No. Queste sono le virago. No. Sono gli occhi della virago. Sono sei. C'ha... Quattro occhi davanti. Due laterali. Quindi l'ordine potrebbe S. Bimbo. Umano. Sbagliato. O è giusto. Che diavolo significheranno quei dipinti? Eh. Quello stavo cercando di capire. Kongol pensa a questi esseri giganti. È gigante. Quello è gigante. Non è virago. Ma allora sbagliando te lo dice. Perché sto ammattendo? Certo. È così. E questi dovrebbero essere alati. Ok. Allora. Però ci ho beccato. Sono grandi. Questi draghi. Un genio. Un genio. Un genio. Questi sono mininto. Ah. Non sono bambini. Cazzo so. È mininto. L'hanno mai visti i mininto. Ci sono un sacco di creature disegnate qui. E l'ultimo cos'è? È virago. Non ho beccato i giganti. Sì. Ma ho capito cos'erano. Dai. Di questi saranno umani. Sì. Non conoscevo i mininto. Sinceramente. E questo è sperma. E appunto. E questi cosa sono? Chi si sperma? Non lo so. Non sembrano sicuramente una specie intelligente. Significa che tranne queste ultime creature? Tutte le altre sono specie dotate di intelligenza. La cui esistenza terrena ha avuto origine dall'albero divino. È l'albero! Dovrebbe esserci una chiave nascosta lì dentro. È l'albero! O comunque la creazione. Quindi questa è la creazione. Queste sono le razze. Devo andare in ordine di grandezza partendo dalla creazione probabilmente. Blu. È diventato blu. È giusto quindi. Quindi poi bambino. Non è diventato blu però. Perché diventa blu solo quello? Umano. Cosa succede? Questi disegni sono una specie di codice. Forse dipende dall'ordine con cui siamo entrati. O l'ordine con cui sono stati generati in questo mondo. Lo sappiamo! La prima specie ad essere creata tra queste è... Gigante. No. I draghi. Allora il primo è giusto è quello. È l'albero allora. Rosa ha detto che questa non sembra una creatura intelligente. Per cui quella dovrebbe essere la prima entrata. È la creazione allora. Ok riproviamo. Allora è la creazione. Dobbiamo dire l'ordine di creazione quindi è... Albero già fatto. Draghi. Non è draghi. Giganti. Sì. È gigante. Poi i draghi. No. Povero Kongol. Adesso penso dovremmo seguire l'ordine di nascita delle specie intelligenti. Tolti i giganti. Ma poverino. Ma è più intelligente di un drago. Vabbè. Ora che ricordo mi sembra di aver letto qualcosa nella biblioteca nazionale. La prima specie che ha avuto origine nell'arbero divino è quella dei giganti. Dopo fu la volta dei mininto. Ok. Quindi se sbagli te lo dice. Beh, bell'enigma. Va bene. Bene, riproviamo. Dai. Non c'era bisogno delle spiegazioni, gioco. Non c'era bisogno delle spiegazioni. Ci arrivavo prima o poi. Non c'era assolutamente bisogno delle spiegazioni. Allora, dopo il minuto se non è drago mi offendo. Giusto. Quindi poi ora è alati. E vabbè, per esclusione. Dai, ce la facevamo da soli, gioco. Mi stai sottovalutando. Ce la facevo da solo assolutamente. Ci arrivavo. Ero già arrivato da solo a grosse cose che mi hai detto te prima ancora di iniziare l'enigma. Caro. Questo cos'è? Un bene? Io salvo perché se non ricordo male è qui quella cosa. E' qua. Bene. Carichi. Respirone. E via. Siamo forti in culo. Quindi me la... Sono tranquillo. Forse non... Forse devo cambiare le dotazioni. Bravo, Vensen. Ok, meno male che c'è il quick save. Danza Macabra. E basta Danza Macabra. Non è il momento di farmare. Signori, avete visto cos'è quella roba, no? E' palese cos'è quella roba. E' una cosa grossa. Viola incazzatissima, piena di energia che la circonda. Ed è completamente opzionale. E' un vicolo cieco. Già. Torniamo indietro. Rosso. Fatti i cazzi tuoi! Vabbè. Un momento. Questa è una virago. Già. Facciamo un paragone fra l'alfantichesco. Se il vero boss opzionale finale enorme è l'omega, questa è ultima. Quella cicatrice deve essere la virago che ha ucciso Belzac. Quindi è anche importante sta via. C'è che questa è una virago. Che puntatone, ragazzi. Una dietro l'altra. Di cosa state parlando? Era una leggendaria arma distruttiva utilizzata dagli alati durante la guerra dei draghi. Purtroppo in giro ce ne sono ancora alcune. Due ne abbiamo stempiate. Ma ha un aspetto molto diverso da quella che abbiamo già incontrato. Appartiene ad una sottospecie. Dalla forma, direi che deve avere un potere di gran lunga superiore rispetto a quell'altra. L'hai già combattuta, Rose, la conosci? La dovresti ricordare bene. Non è proprio una cosa gradevole a vedersi. Andiamocene. No? Non potrei. Perché non mi faccio i fazzi miei? Sbagliato, non ci dovevo venire adesso. Non ci dovevo venire adesso, è presto. A virago. O non ci posso più tornare. Bene. Quanto sei brutta. Io non me la sento da andare in drago subito. Lo aspetto per curarmi. Santa virago testa. Santa virago braccio, corpo. Braccio va rotto. Braccio va rotto sempre. Siamo nella merda. Siamo in 80. Siamo nella merda. Non so farlo. Non ci dovevo venire. Voglio vedere prima i danni e faccio normale. Poi vado in drago. 500. Ok, no. Forse è fattibile. 10 vite rimaste. Cosa vuol dire? 400. Non è un conto alla rovescia, vero? Non ricordo. È un conto alla rovescia. E se non l'ammazzi in 10 turni fai game over. Io ho 300 Sein Jam più, un po' più un giocatore vero. È veloce Miranda, fa 15 turni prima di quell'altro. Ok, non me la sembra. Ovviamente non esiste mai più lo special, lo sapete. Lo special non si farà mai più da dopo l'Enus. Non me ne frega. Se questo è un altro defect pagati, non ho attenzione di rifarlo. Ah, più. Difesa magica o difesa fisica? Testiamo. Bartello di Thor. E lo so, Dispure, questo è l'ultimo weapon. Perché se li facciamo tanto con martello di Thor, col drago bianco lo asciattiamo. Porca troia, difesa magica sotto i piedi. Ok, quindi direi drago, raffica finale. Sotto il braccio. Ho puga del braccio, il braccio è la cosa più grossa e sembra un pene, quindi farà molto male. Non l'ho sciotto il braccio, ha preso mille danni e non è nemmeno vero, non è nemmeno giallo. Merda. Raffica finale. Meno danni che dà tuono. Resiste fuoco. Resiste fuoco? O è solo l'attacco magico di Dart che è paperiniggiante? Tu difenditi. Allora, lei va in drago solo quando dovrò fare la cura. Proviamo un attacco fisico. Sbagliato, vabbè non l'ho sbagliato, ormai ho capito. Il gioco a volte lo prende, a volte no, vabbè. 479. La metà del figlio di Thor. 789, ok, è a metà. Miranda fa due turni ogni personaggio, è fortissimo. E' molto lenta sta dire qua, però. Ok, al prossimo turno di Miranda mi curo, benissimo. 8 vite rimaste. Devo concentrarmi sul corpo? Giuro che è allo stesso tempo che ho usato prima per Ashe, solo a volte lo prende, a volte no. Non me l'abbiamo capito, è un po' random. Ok, credo abbia più difesa fisica e magica a sto punto. Ok, Miranda, do your thing. Mi sembra di cittare, utilizzando sta roba, però... Il nostro farming è servito a questo, no? No, no, no. Uuuuh, 1100 a tutti. Minchia, fa mille danni a una pirago, ma che bomba sei, mira. Mira, ma che bomba sei, ma che bomba sei. Affogami con le cosce. Battene animazione dello special, se no mi bug il combattimento mi incazzo. Minchia, se si bugga... Non è ancora morto nemmeno il braccio, muori per favore. No, più che addendami, è l'ultima weapon, questa. È un boss più forte, opzionale. Questo è il secondo boss più forte. Ma non lo stiamo gestendo, cioè, non mi sembra che stia facendo attacchi forti. Cioè, il mio dubbio è se alla fine di quel conto alla rovescia siamo morti. Vabbè, fai un figli del cielo, dai. Cioè, o alla fine di... Ah, la mossa di mira, sì. Ah, sì, è Eden. Un 25% che mi fa quasi 400 danni, me l'accollo. Se mi si bugga sto fight, io impazzisco, allora. 7 vite rimaste, ma è morto... Mantenete tutti la calma, non resisterà a lungo. Esplode ed è game over, vero? Ma l'ho ammazzato il braccio. Perché continua ad attaccare? Perché non dipende dal braccio l'attacco. L'ho ammazzato per niente. Bene. Ok, andiamo di testa. Andiamo dritti di testa. E dai. Mi stai dicendo che il gioco considera questo fight talmente difficile che è solo di resistenza. Quindi noi siamo B a merda. Siamo già troppo forti rispetto a questo punto del gioco. Quanto è lenta. Che ha toccato due volte Ashill prima della virago. Ma sciogliamo. Ma sbriciolo. Quanto è bella. È talmente... Cioè... E c'ha i pezzi di rovine addosso. Vabbè. Immaginatevela con la grafica di oggi. Una boss fight del genere. Fate un remake. Vi prego. Sony. 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 Te lo sto chiedendo per favore. Sony. Ok, io ne faccio un altro. Sony. Fai un remake di questo gioco. Se lo merita. Se lo merita. Ma non farlo action. Fallo così. Solo bello. E più veloce. Lo so che non lo faranno mai. Ma io... Prego. Bella, Iettolo. Andatemi Legend of Dragoon. Remake. Allora fate un sequel. Due turni di fila. Miranda, ma che mostro sei. Con 85 di velocità. Mi sembra che Asher faccia più male così che da Drago. Dopo si fa un altro martello di Thor. Ma non ho la Switch. Cinque vite. Ci si fa? Mi sembra un boss fight lungo ma facile. Cioè... C'ha tanti punti vita. Ah, c'ha la Silvia, effettivamente. C'ha tanti punti vita, ma... Tranquillo. Era a metà. Siamo veramente così forti rispetto a come dovremmo essere? Abbiamo fatto talmente tanto farming. Ahia. Frizza. Questo frizza. Questo frizza. Non nemmeno troppo. Pensavo molto bene. Dovevo aspettare a fa' quel Drago. Non ce n'erà motivo. Faccio un altro martello di Thor. Faccio un altro martello di Thor. Quasi mille fasce, comunque. C'ho un'ansia. Guarda. E' quevise. Lo devo a изolvere. Lo devo a ispatrar. Lo devo a ispatrar. Lo devo a ispatrar. Lo devo a ispatrar. Uh Ha preso il posto di Shana Sì, sì O fa un attacco straforte O è game over Quel controllo alla versione Tipo, o fa un attacco straforte Devo essere fullato Tipo, mi manda tutti a uno Può essere una roba Cavale Ma io Io non so ne legge e ne scrive Ascorta Io non so ne legge e ne scrive Faccio un altro drago bianco Ce l'abbiamo, si fa Non ne abuso Eh, nel senso Non è abusarne È È avercelo Ce l'ho Ho la possibilità C'ho un drago C'ho un attacco drago finale Dal terzo CD Lo prendo Lo uso Effettivamente è l'attacco più forte del gioco Se me lo sono guadagnato Lo uso Esatto Me lo so guadagnato al drago bianco Tenendo Shana dall'inizio Soffrendo per 2 CD Allenandola come la Mevda Che non è morto Quanto di te mancano Ho paura io Ho paura Mi cago 2 Che è Che è Non sta facendo Fa due attacchi Allora è un attacco strafo È un attacco P Sta facendo solo due attacchi Non è possibile che ci abbia due attacchi Nel moveset C'ha l'attacco U C'ha la strizzata E la frana E basta Non ci redo Non ci redo Ti ha due turni di fila Ma quanto sei up Oh se fanno due turni di fila È come se facesse 350 danni Scusate Oh che è Questo non l'avevo ancora fa Solo 4000 Non buggarti Ok Solo 4000 Quindi era facile Che le virago si svegliano Quando ci incontrano Perché Gli garbiamo Non so L'anziano non mi ha mai parlato Di questa creaturina Creaturina Questo significa Che non era Shana L'unica causa Della loro reazione Shana Non so ancora niente Del mistero Che avvolge Shana È la fine dell'alluno Dai palese 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 L'abbiamo altra scelta Dobbiamo proseguire Su Andiamo L'abbiamo tritata Sta viragozza Ah devo rimettere La E niente Mi curo con Miranda Ando sono in fight Un attimo Un attimo Un attimo Questo è il bastone bloccadraghi. Non sembra granché. Siamo sicuri che possiamo sconfiggere il drago divino con questo? Abbastanza un bacchetto. Mai giudicare la grandezza di un bene e di un potere magico basandosi sulla grandezza dell'oggetto. Il solo potere di questo bastone è riuscito a tenere lontano il drago divino per oltre diecimila anni. D'accordo, quindi riportiamo indietro il bastone e organizziamo la difesa della capitale reale. Il drago divino avrà il fatto suo. Non è così facile come credi. Il drago divino non è come tutti gli altri draghi. A me fa un saltino, rapido. Anche con il bastone noi dragoni dovremmo ringraziare il cielo se riusciremo a rinchiuderlo. Forse Lloyd lo avrà addomesticato. Addomesticarlo? Non credo che non sia possibile. È impossibile che il drago divino si arrenda. Ed è impossibile ucciderlo. Per questo venne segregato. Questo va molto al di là delle capacità di Lloyd. Questo significa che Lloyd non è ancora intervenuto? Forse non può intervenire. Non sappiamo ancora se si è interessato all'oggetto lunare divino. L'oggetto lunare? Dovreste averlo a mille sesò, vero? Un oggetto divino con un nome che contiene la parola luna? Non so di cosa stai parlando. Come mai? Non sono affari tuoi. Dovete solo pensare a come portare indietro il bastone. Cazzata, mia. Ok. Lo prendo subito. Ok. Quasi. Wow. Cosa diavolo è? Una roba. C'ho l'ansia, eh. Dai, non possono essere tutti buggati, no? Non possono essere tutti buggati. Chiaro? Questo andrà bene. I fight buggati sono l'enus, la super virago e basta. Martello di torno. Questo è come Kamui. Prima, l'altra volta. Abbiamo usato draghi a spare. Non è mai successo niente. Oh. Oh. Abbiamo paura di un bug noi Facciamo fermare da un bug Bastone blocca draghi lo usa Ci sdraga Poter attacco e difesa del dragone ridotto un tipo al me Era meglio non andarci in drago Vedi è il gioco che ti dice I draghi non li devi usare Neo è successo di nuovo Neo dove eri? Contro la super virago Si è buggato 59 Dopo la super virago mi bloccava il black screen ai trasporti Ho dovuto ricaricare e schifare la virago Bella Neo La super virago è un combattimento rotto Questo no A parte che ci shotta però Beh forse non dovevo usare i draghi contro Il custode del bastone blocca draghi Sì sì lo so ma dico Allora i fight buggati sono Lenus No ho sbagliato Ok lo sappiamo adesso No ho miscliccato una nebbia curativa Non avrei mai Non avrei mai resettato Per i dragoni sbagliati Che morivano male per il bastone blocca draghi Non avrei mai resettato Ho resettato perché ho miscliccato una nebbia curativa Su Miranda a vita piena Quello sì Ciao Neo Grazie ancora Per il supporto Dai 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 Ok non si va in drago si mena Ora sappiamo che non può buggarsi Benissimo Beh cazzottoni amico mio Cazzottoni sodio amico mio Amico mio quascone Vai di power up Ho sbagliato Tra l'altro non ho lasciato le folle Vabbè Deve passarmi questo nervosismo Ok Pochi Speed up Sempre ad hashel E lui ci fa da machine gun Ora E a che servono i draghi Se fai 700 con una dotazione Scusami Velocino il bambaino Eroo e folle Eroo e folle A cazzottoni 700 danni Ashel Power up e speed up Per 3 turni E un mostro Prendi Prendi L'attacco dei cittamenti Aia Flow Il livello Il livello Ci ha abbassato il livello Della squadra Malissimo Granda Usa vai Eroo e folle Potevi fare molto meglio Ah è terra Adimezzati Eroo e folle Non mi era accorta la terra Ho fatto prendere dall'ansia Di sta cosa Dei draghi Te lo giuro È già morto Morto Bricioliamo Eeeh Fai le cosine Eroo e folle Eroo e folle Dai morto è morto Eroo e morto Cazzo è shadow per il follo Dove sei grosso Ascio Ma no A 600 Non è mai morto nessuno Dai è cappato Eeeh 197 Va benissimo Va bene dai Fai una curina Eroo e folle Fotte Sono un cuglione Di merda Altri livelli Meno Un po' ci shotta Un corpo Minchia I livelli Sono tanti Se sono 5 livelli È tantissimo Cioè Sono 5 livelli Siamo morti Forti Tutti Ma questo è l'attacco luce Attacco luce potente No Va ucciso adesso Non li facciamo più Niente Come faccio senza draghi Cazzo Non faccio più danni Come lo butto giù Serà meglio Non mettere Eroe folle Morti Tuttate Tutti Basta via Vabbè Miranda è immortale Però Tecnicamente Miranda non può essere Uccisa da questa persona Col casco mitico Sei immortale Contro sto boss Fa solo attacchi magici Tra tecnicamente Atacchi Ho Eroe Frendi Attacco Deci Fadel Sì, sì. Ora muore, eh, dai Il problema è che più ci abbassa il livello Più è veloce Rispetto a noi Quindi ora fa svaratitudine Cioè, ora rischia di fare due turni di fila Oh, 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 Cristo 9.000, vai, recuperata la Virago Cioè, 9.000 La Virago dava 4.000 Ma che merda è, ma chi se ne frega Ma anche se non è recuperabile in futuro, amen Di lore l'abbiamo fatta L'abbiamo vista, lo sappiamo Andiamo, man Eh, ho fatto due livelli, Miran Il bastone blocca Draghi O Romario Non sapevamo che ci fosse una guardia L'anziano avrebbe dovuto dircelo Non lo sapevo neanch'io Era per metterci alla prova, dai Comunque, il bastone blocca Draghi Nelle nostre mani Torniamo indietro, presto Non è che parte Dai, Dart, sei scarso in culo Muoviti Devi muovere Quelle dotazioni Ah, siamo fuori Oh Molto più difficile è sto boss Viene la Virago Molto più difficile Sto crollando le rovine Perché abbiamo tolto il bastone Abbiamo appena distrutto La terra promessa sacra Non può essere Drago divino Ciocchezza, è troppo presto Oh no, Deningrad Dobbiamo sbrigarci E dai, qui Quanto anticlimatico è un combattimento qui C'è un punto dove sono blind Allora, io ricordo un po' tutto Ma un po' niente Nel senso Ricordo a grandi linee delle cose Però c'era C'era dei pezzi Non mi ricordavo per niente Questo, per esempio Qui ricordavo Che in questo dungeon C'era il boss segreto Però non ricordavo il dungeon Non ricordavo il gioiello Minimamente Zero proprio Tipo ricordavo Che Miranda Entrava in gruppo Ma non ricordavo come Sono tante cose Per cui sono in blind Semplicemente Io ricordo Di un gioco Che ci ho giocato 22 anni fa Ricordo delle cose E non ricordo altre cose Nel dubbio Io non mi spoilerò nulla Quello che mi ricordo Amen Quello che non mi ricordo Bene Eroe folle Morto Attacco Siamo tonnati Avete trovato il bastone blaccadraghi? Sì È il drago divino Non preoccupatevi Vi trasporterò a Deningrad Sì Siano questo è troppo Voi non avete più questi poteri Ho sbaglio Non abbiamo tempo per pensarci No si sacrifica ma Come si ci muore per fare questa cosa È bravo È bene non sta Anziano blano Non è morto ma bene non sta Sto bene Non ho funzionato Se non ha piedi non è un problema Penso io Noi ci fidiamo di Mero E anche degli amici di Mero In cui lei crede Vorrei poter vedere il futuro Che Mero e i suoi amici Riusciranno a realizzare Bravi Guardali Il becco Guarda Dovetevi Dart Pallina Riusciranno a realizzare 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 Grazie a tutti. 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 Due? Alvero sacro, alvero divino, ci stai mettendo la prova o ci stai giudicando? Come è da andare pure? Poi? Eh, ti capisco. Voglio uscire, volevo premere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Male, ma... Male, mamma. Male, mamma. Ma io premo qualsiasi cosa che sembra esistere. Ho visto un faccio di luce volare verso la luna della torre distrutta. Cosa poteva essere il drago? Cosa poteva essere? Il drago? Il drago? Ah, dalla torre! Vabbè, palese, no? L'oggetto lunare che Miranda ci sta tenendo nascosto. Era quella roba che Shana gli ha dato fastidio, che ha tolto lo spirito di drago a Shana. Quella cosa avevano sicillato nella torre e il drago ha distrutto il palazzo di vetro. Il sicilo si è rotto e l'oggetto è tornato alla luna. Quindi se tecnicamente ipotizziamo mettiamo la base di Lloyd e la luna. Facciamo così, ipotizziamo. C'ha tutti e tre gli oggetti lunari e ora siamo nella merdona. Il drago distruggerà tutte le città abitate dagli umari. Sto preparando per il soccorso delle vittime ferite. Sto preparando per il soccorso delle vittime ferite. Oh, salve! È successo vent'anni fa. Qua c'era una clinica. Le pandiere ha tenuto tutto in piedi. Ma mi chi ha dei soldi in questo momento? Dai fai cagare, fai. Volete curarvi? Fate un passo su quel segno. Sì, ma... cioè... vabbè. Sono orribili. Sono orribili. 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 Oh, albero divino. Albero divino. Oh, ha perso il dialogo. Ha perso il dialogo. Beh, dobbiamo pensare al futuro. Non è importante. Ho un piede nella fossa. Morto. Un disastro. No, quel che più mi spaventava era... Lo sapevo mai. Non poter fare niente, in fin dei conti. I doppi dialoghi come Elder Ring, eh. Elder Ring... Prom non ha inventato niente, ripeto. Lettie! Luanna! Sveglia! Sorella Miranda! Sorella Miranda, siamo vive! Bene. Non vuoi che non vi siate nemmeno ferite. L'ho terrorizzato. Aspetta di piangere. Il drago divino non c'è più. E lo sistemeremo noi. Avete trovato il bastone bloccadraghi? Eh... Sì, certo. Però possiamo prepararci per il prossimo attacco. Cosa intendi con prossimo? La psiche che il drago divino ha scagliato contro il palazzo di vetro era una massa nera infinita di odio. Deve esserci un prossimo attacco? Glielo permetterò. Dove sta la regina Teresa? La regina Teresa è salva? Guardato! Picchia! Sveglia! Sì signora, sorella Miranda! Abbi cura di queste due. Non ti preoccupare. La regina Teresa è al sicuro. Anche Wink sta bene. Tutto a posto. Grazie a lei. Tutto bene? Noi stiamo bene. La sorella Miranda è andata su. Che è successo a Shana? Anche lei dovrebbe essere di sopra. Andiamo, andiamo, andiamo. a Shana Miranda. Che bello. Vi sono salvo. Un attimo il nostro bel palazzo reale si è ridotto così. È terribile. È terribile. È terribile. Mamma mia che disastro. All'improvviso il castello ha tremato e un momento dopo ci è crollato tutto addosso. Soffitto, pareti, pilastri, rubini, zaffiri, brillanti, tubiri, zaffanti, zaffinti, rullanti. Wink! Tutto bene? Tutto bene? Mi ha curato sorella Miranda. Ecco ora il drago piano. Mh? La stanza di Shana? Non c'è. Un momento, Shana è viva. Oh. Dovrebbe essere di sopra con la regina Teresa. Grazie. È venuto giù tutto il palazzo di vetro. Che forza. Che forza nel senso che forte è il drago? Che forza... Ah, salve. Prima era un castello bellissimo, lo sono rimasto solo macele. Cioè, che forza incredibile quel drago imbattibile. Oh, che forza! È crollato tutto il palazzo. Che figata! What? Wow! Cosa è questa luce? Cosa succede? Non lo so. Quando sono arrivato era già così. È un po' fastidio. Shana? Regina Teresa, dove siete? Ehm... Ehm... Shana? Regina Teresa! Dart? Sono io, mi senti? Dart? Tutti! Siete salvi! Sì, ma tu volavi illuminata. Regina Teresa? Ah. Regina Teresa? Cosa? Morto. F... No. Ok. Granda? Non ti preoccupare. La Regina Teresa è salva. Tanto sollevata. Dimevo che fosse successo qualcosa alla Regina Teresa. Sto... Ora sto bene. Veramente. Non potrei più chiamare Seity una mocciosa. Non mi importa. Voglio piangere un po' adesso. Solo un po'. Bellini anche lei fa la dura, fa la gran... La sorella grande, ma in realtà... Gli altri. Beh, che si siano accalmate le acque adesso. Lo no. Lo no. Bentornati. Vedo che ci siete tutti. Dopo provo... Beh, nel senso... Finita sta puntata, diciamo. Stacco e provo a fare quella roba dell'OpenGL Vulcan. Per vedere se mi regge. E quasi quasi off live. Provo a ricaricare... Dalla Virago. Vediamo. Boh, non lo so. Per fortuna i danni alle persone... Sembrano essere minimi. Credo che siamo benedetti dall'albero divino. Cos'era quella luce? Sembrava che stesse proteggendo la regina Teresa e Shana. Sì, la luce stava... Flashback. Flashback. Ti senti pronta per proseguire? Non molto, ma spero ancora di farcela. Capisco. Allora sembra che dovremmo solo avere fiducia ad aspettare. Sì, vostra maestà. Buuuu. Lo sapevo. Cosa succede? E quello cos'è? Eh... 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 Eh sì, non ha fatto niente. Ha fatto... Cioè... Non ci ha nemmeno pensato. Non è che ci pigli un po' per il culo Shana. Deve essere un miracolo Shana, hai fatto un miracolo. Anche le mie sorelle erano protette dalla stessa luce. Hai salvato tutti. Sì, ma ne sei consapevole. Ma io non so niente di questo potere. Sì, ma l'hai fatto conscia o no? Questo potere obbliga darti ad affrontare un sacco di rischi. E io faccio soffrire la gente. Anche la gente di Seles è tutta colpa mia. Sì. Eh, purtroppo tecnicamente sì. Eh... Vabbè, no, però... Non è vero, è stata colpa di Doyle. Di Lloyd. Non di Doyle. Di Frugel, anzi. Palese. Chi sono io? La figlia della luna. Te lo dice Tato. La figlia della luna. Palese. L'hanno capito tutti tranne i personaggi del gioco. Ho perso i sensi. È tutta colpa mia. Non sapevo niente e gli ho detto troppe cose. Palese. Voi siete diretti. A Menaglie. Alla montagna del Drago Stronz. Lasciare Shana in questo modo. Tornerò quando avrò sconfitto il Drago, Miranda. Vuoi occuparti tu di Shana? No, Miranda, con me in team. Stai chiedendo di restare qui? Il Drago Divino non è l'unico mostro sulla montagna del Drago Mortale. Tu sei una sacra sorella di questa nazione. Nessuno ti obbliga a venire con noi. No, 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 io... Lo sei scordato? Io sono un dragone. Proprio come te. Acquisito. Non ho nessuna intenzione di tirarmi indietro. Inoltre me l'ha chiesto Shana. Occupati degli altri. E voglio mantenere la promessa. Che donna. Una mazzone. Abbiamo raggiunto un accordo. Conto su tutti voi. Sì, vostra maestà. Ridatevi di noi. Canto la barotta c'è in questa stanza. Voi non ci torno io. Io ci torno. Mi conoscete? Io ci torno. Spettatevi worldwide. Dove non si oltre che alitz I'm writing della canola. Posso chiamare le altre persone. Ho chiamato gli altri. Lo possiamo aspettare fuori se volete, bellina. Non ti facevo così sensibile, Meru. Ho, 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 ho. Hai proprio ragione, ho imparato da voi a preoccuparmi degli altri. Oh, evoluzione del personaggio. Palese, però. Meglio se andiamo. Ci vediamo dopo. Tutto a posto? Quante smancerie, madonna, Rose. Non è il modo di parlare ad un'amica. Edgy Rose, madonna. Non ho ancora visto il tuo potere di dragone, se non sbaglio. No, in realtà è tipo la più forte di tutti. Shottava la gente, ha fatto un miliardo di danni. Non l'abbiamo visto. E forse dicendo che non ti fidi di me? Basta. Miranda è dei nostri. Può fare molto più di me. Sì. No, in realtà avete le stesse statistiche. Speriamo. Ma fa sempre così? È solo che Rose è preoccupata per me. Che donna insensibile. Pongo il partire. Vuoi riposare. Buono per voi. Un cucciolone. Mi si vuole bene. Pongo lui un fratello. Mi si vuole bene, un bambino. Io vado. Ciao Shana. Che c'è D'Arto? Stati tutti in curva. Andiamo sulla montagna del drago mortale. Non prima di essere tornati a regina Teresa. L'unica stanza che non ho perlustrato è quella della regina. Perché le stupide c... Anche qui. No, qui ho toccato. No, qui c'erano le sorelle. Dietro? Niente. No. No. Qui ho fatto... Nelmo, com'è Legend of Dragoon? Bello. Cosa fai durante il gioco? Tocco le cose. Tutte. Tutte. Perché? Perché forse c'è la bamba. Bello. È un gioco. Il gioco anch'io. Marketing. Vedete che dice? Un semplice umano non è in grado di sfidare da solo il drago divino, lo so. Ma andrò lo stesso sulla montagna del drago mortale. No, tu non ci vieni. Tu non ci vieno. Ora potete sconfiggere il drago divino. Pregheremo per voi. Grazie. Però io vorrei la vostra bamba. Il bastone blocca draghi ma hanno una forte corrente. Ma un tornado che spazza via tutto. Era più una luce che fa... E ti distrugge i draghi. Cos'è? È BAMBAAA! LA BAMBAA! SIIIIIII! Lo sapevo io. Davайте, non te la palese. Qui c'è altro? Prima ce n'era due. Abbiamo preso in prestito il potere dagli alati. Resta altro da fare che battere il drago divino. Naturalmente proprio questa è la parte più difficile. Come c'è alcuna? Che dico mine? È tranqui. Quanto siamo a proposito? Vogliamo fare un backtracking? No, non si può tornare da martello, vero? Si può tornare a flezzo 45 stellari 45 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 Ah si, la bamba è un modo scherzoso per dire la polvere stellare Ce ne mancano solo 5 Bravi Mi sa che sono finite Credo ce ne sia 5 nel CD4 Sono tutte entro il CD3 Ma so Perché il rose? Perché mi hai cambiato squadra senza chiedermelo? Allora, io me lo tengo al salvataggio quello della terra proibita Voglio fare dei test Ok Voglio fare dei test Nulla mi vieta di fare off-live tutto il pezzo fino qua di nuovo Se riesco a superare il problema del black screen Se riesco a superare il problema del black screen faccio la virago e rifaccio tutto il gioiello e tutto fino qua Non ho problemi Per avere la run completistica giusto Per avere la run completistica giusta Ah si, facciamoci un combattimento Oh dai, io lo faccio Quanto ci metto ci metto Combattimenti in 4x non li puoi fare No, lo faccio off-live Io provo Provo a sistemare delle A cambiare delle opzioni Magari veramente a A vedere quella roba dell'open GL Non capisco Guardo qualcosa su internet O qualche tutorial così E guardo se Allora, mi stai prendendo per il culo Io provo a rifare la virago Se dopo la virago si bugga di nuovo F Se dopo la virago Cambiando le impostazioni Non si bugga Io dal salvataggio della virago Rifaccio tutto fino qua Proprio nessunissimo problema a zero Me lo faccio con una Pace mentale Ciao belli, ben tornato 647 Erano così forti anche prima Questi sono stronzo io Colpe Allora C'è qualcosa che non va Che facciamo? Missiamo tutti i colpi? Un altro bug? Caga Cosa sta succedendo? È sempre stato così evasivo Il ratto di merda Sciolto? Perfetto Attacco di 5-0 Let's go Il mostro si è diretto verso Deningrad Quindi è tornato alla montagna Prima che il drago divino sparisse Avete lasciato passare qualcuno? No signore Nessuno Nemmeno un'ombra A meno che non fosse una creatura volante Come il mostro Ho capito Rimanete di guardia qui Noi andiamo a sistemare il mostro Sì signora In bocca al lupo Allora abbiamo il bastone Rimanete di merda Un battimento in atto climatico Ci sta sempre Un piccione Ora si Un miliardo di danni e mezzo Benissimo Blu Allora Siamo davanti alla drago Montagna Salviamo Allora io ho intenzione Di fare questa cosa Te lo dico Qui salvo Nel dubbio Ci siamo Io Provo a cambiare delle impostazioni A fare della roba Ok E provo a ribattere la virago Se risolvo il problema Non credo Provo a batterla coi draghi Ovviamente Coi draghi Cioè il problema è Io voglio risolvere il problema Non voglio Ad agiarmi Sul fatto che non si può fare Senza draghi Non la voglio rifare Senza draghi Non me ne frega un cazzo Mi perde 4000 punti esperienza È una pioggia curativa Però Provo a fare dei test Per vedere se riesco A passare la virago Senza che si bughi il gioco Se ce la faccio Rifaccio tutto Se no poi Dalla prossima volta Si riparte da qua Grazie per rimanere con me Anche nei momenti di panico totale Come quelli di oggi Però molto bello Non è una puntata Non è successo un sacco di cose Un sacco di cose Belle e brutte Belle e brutte Ciao Ciao